These vagabonships are a long history Sofferta e appassionata, Monica Guerritore ha interpretato Oriana Fallaci con la rabbia e il dolore della giornalista che urlò lo sdegno per l'attacco alle Twin Tower Mi chiedete di parlare, il titolo del monologo scritto e diretto dalla stessa Monica Guerritore Sul palco dell'Odeon di Lumezzana l'attrice si cala perfettamente nei panni della giornalista facendola rivivere attraverso l'immaginazione Lo spettacolo riporta ad una Oriana Fallaci che la morte l'ha vista in faccia tante volte come inviata di guerra nel mondo ma che dopo l'attacco alle torri di New York fece esplodere la sua rabbia, il suo sdegno, il suo dolore Padre nostro, che sei nei cieli, daci oggi il nostro massacro quotidiano Liberaci dalla pietà, dall'amore, dall'insegnamento che tuo figlio ci ha donato Tanto non è servito a niente, non serve a niente, niente è così sì Monica Guerritore ha fatto rivivere la più importante giornalista del Novecento Una piccola donna la cui energia e il coraggio di raccontare la morte, anche la sua, aveva caratterizzato la sua esistenza Quando sei una donna devi combattere di più, e devi vedere di più, e devi sentire di più, essere di più È una questione di sopravvivenza Ma io non ho mai voluto chiedere scusa per lo spazio che occupavo